eccoci e provo a condividervi il mio schermo se poi dovessero esserci problemi forse non vedrò la chat quindi piuttosto ditemi la voce se ci sono dei problemi o di visualizzazione o di audio sì certo Jenny d'accordo grazie ecco direi che possiamo cominciare intanto ringrazio tutti e tutte coloro che si sono connessi e che sono presenti a questo seminario sfrutterei proprio la natura seminariale di questo incontro per farvi entrare un po' in un laboratorio aperto cioè per condividere con voi alcune considerazioni di una ricerca decisamente in progress quindi prendiamole appunto come alcune considerazioni preliminari su un particolare tipo di autobiografia che si può trovare nella cultura contemporanea e non solo partirei dal saggio di Lottman il diritto alla biografia che è stato più volte citato in tanti degli incontri di questo seminario abbiamo già detto molto su questo saggio quello che la cosa su cui vorrei portare la vostra attenzione è la distinzione di Lottman tra due modelli di autobiografia scusate di biografia come sapete appunto in questo saggio lui teorizza che ciascuna cultura codifica in modo diverso quali sono gli individui degni diciamo così di avere una biografia quindi di essere ricordati e quelli che invece no il diritto di avere una biografia è garantito dal fatto di agire al di fuori di schemi di comportamento codificati cioè di eccedere un comportamento standard facendo scelte personali e agendo in modo coerente con queste scelte che si pongono al di fuori del mainstream possiamo dire e appunto partendo da questo presupposto Lottman distingue da una parte il tipo del santo medievale che rappresenta l'ideale della perfetta del perfetto adempimento della norma e della dissoluzione del sé appunto in questo compito di aderire perfettamente conformarsi perfettamente ad una norma dall'altra parte questo modello appunto è contrapposto alla biografia di stampo romantico in cui c'è un eroe che ha dei tratti di originalità che rompe le regole e in cui si pone proprio l'accento su questi tratti individuali irripetibili ora questi modelli di costruzione diciamo della persona che ha il diritto ad avere una biografia si possono riscontrare anche nel modo in cui vengono costruite non solo le biografie ma anche le autobiografie partendo appunto da questa dicotomia se vogliamo tracciata da Lothman quello che desidero ipotizzare è che in realtà si può rintracciare un terzo tipo di modello di costruzione autobiografica un terzo modello profondamente è basato su un tipo di intertestualità che fra l'altro sfida la distinzione tra il genere biografico e quello autobiografico perché tende a mescolare questi due generi anche perché il meccanismo principale di questo tipo di modello che potremmo provare a definire meta-autobiografico consiste in una misanabim di testi autobiografici dato appunto il focus di questo di questo seminario chiaramente mi concentrerò sull'autobiografia spirituale e come vedrete in particolare sulla figura di Giulia Cristeva e non solo in realtà appunto l'idea era proprio quella di di ripercorrere un po' il percorso partendo da Sant'Agostino per arrivare a Santa Teresa d'Avila e infine giungere a Giulia Cristeva ma appunto procedendo con questa ricerca mi sono focalizzata sempre di più invece proprio sul caso di Giulia Cristeva che man mano che andavo avanti con lo studio mi accorgevo essere sempre più complesso picco di spunto e quindi degno di attenzione allora Anne Arendt distingue rifacendosi alla cultura greca chiaramente tra la zoe che è la vita biologica e bios che è la vita che si racconta cioè la vita degna di raccontare che è la possibile materia per una autobiografia e naturalmente anche di una biografia questo principio l'idea di bios quindi questa vita che ha senso raccontare quello che viene narrato in un testo biografico o autobiografico presuppone una serie di scelte di pertinenza prima di tutto il fatto che ci sia una assiologia di base condivisa da una cultura cioè ci sono dei tratti che come diceva già Lothman sono ritenuti comunemente tratti pertinenti per un racconto biografico o autobiografico poi implica che ci siano degli schemi narrativi di base che aiutano chi desidera raccontare esperienze di vita a esprimerle facendo ricorso a delle formule degli schemi narrativi ben codificati la terza conseguenza o implicazione che possiamo individuare riflettendo sul concetto di Pios è che la narrazione non è qualcosa di posticcio rispetto all'esperienza ma invece è una parte cruciale ha un ruolo direi attivo quasi performativo nell'esperienza di vita e vedremo meglio adesso perché questi questi principi si applicano molto bene anche nel caso di narrazioni di esperienze che possiamo definire come religiose Massimo Leone per esempio riguardo alla conversione religiosa scrive come vedete qui l'esperienza della conversione religiosa è spesso concepita come un'esperienza narrativa nella quale la narrazione non consegue all'esperienza ma la costituisce anzi la drammaticità della conversione religiosa è sovente definita proprio in rapporto alla difficoltà di questa narrazione non solo il problema di narrare agli altri un nuovo sé ma anche il problema forse ancora più profondo e paradossale di un nuovo sé agli altri quindi la narrazione della propria esperienza la narrazione autobiografica è come vi dicevo formulata attraverso modelli narrativi condivisi all'interno di una certa cultura questo implica anche un certo grado di intertestualità presente in ogni autobiografia il termine intertestualità è diventato famoso come sapete proprio grazie a Giulia Cristeva che propose di considerare la parola letteraria come non come un punto cioè come un senso fisso ma come un incrocio di superfici testuali un dialogo tra parecchie culture quindi da questo punto di vista ogni testo è concepito come parte di un sistema cioè di un insieme che non è dato solo dalla somma delle proprie singole parti ma soprattutto dalle relazioni reciproche tra queste parti e anche ciascun ciascun testo presuppone una negoziazione tra l'originalità e possiamo dire la convenzionalità cioè il rifarsi ad una tradizione ben codificata questa è un'idea che ha avuto molto successo che si ritrova in tanti studiosi contemporanei penso per esempio ai palinsesti di Genette quest'idea quindi ha un ruolo importante nella cultura dell'ultimo novecento e anche direi nella cultura contemporanea e si ripercuote anche possiamo dire oppure anzi il suo riflesso si può trovare anche in alcune caratteristiche della scrittura autobiografica e nell'interpretazione dell'autobiografia come genere testuale letterario nel campo dell'esperienza religiosa Zolkovsky nel 2014 ha pubblicato un interessante articolo su quelle che lui chiama le epifanies of the book cioè riporta una serie di esempi di racconti autobiografici che mettono proprio l'accento sul fatto che la lettura di un libro conduce a una epifania cruciale cioè un momento di illuminazione improvvisa profonda comprensione che segna una svolta tra il prima e il dopo quindi momenti veramente cruciali nelle storie della vita di alcuni individui mi spiego meglio per esempio si sa bene è molto noto il caso di Sant'Agostino nelle confessioni Sant'Agostino insomma non sto a raccontarvi il famoso esempio del tolle legge e poi a loro volta le confessioni diventano rappresentano proprio la chiave di volta nella storia della vita di alcune persone penso per esempio all'ascesa al Mont Ventoux di Petrarca oppure all'influenza all'influsso che proprio le confessioni di Agostino hanno avuto su Teresa Davila come leggiamo nella storia della sua vita vedete qui una citazione appunto della vita di Teresa Davila dove leggiamo appena appena diedi inizio alla lettura delle confessioni mi parve di ritrovarmi in esse e cominciai a raccomandarmi caldamente a questo glorioso santo quando giunsi alla sua conversione e lesti della voce che gli udì nell'orto mi parve che il Signore facesse udire a me per quel che ebbe a sentire il mio cuore questo tipo di fenomeno può essere fatto rientrare in quello che l'offland e Sconot classificano come conversione intellettuale che appunto è un tipo di conversione abbastanza loro usano la parola disembodied cioè appunto avviene in modo diciamo apparentemente solitario ma in realtà in modo dialogico dove l'interazione però non è tanto con una persona in carne ed ossa ma con un libro quindi con un autore e non diciamo più che altro con un autore con un libro e non con l'interazione faccia a faccia diciamo così ed è un tipo di conversione che diciamo sta acquisendo sempre più rilevanza se estendiamo questo concetto anche non solo più al vecchio caro libro cartaceo ma per esempio all'influenza che programmi televisivi o testi digitali su internet eccetera hanno nell'esperienza religiosa e su questo penso che insomma ci ha dato un saggio molto rilevante Victoria Dos Santos con il suo intervento di ieri ora l'accento sull'importanza fondamentale di leggere un libro per lo sviluppo della coscienza religiosa possiamo dire così è un topos ricorrente nelle narrazioni autobiografico e può essere considerato come un particolare esempio di intertestualità che connette tra di loro diverse autobiografie quindi c'è anche un'idea di specularità diciamo in questo tipo di racconti perché appunto la conoscenza di se stessi passa attraverso il riflettersi nell'esperienza di qualcun altro questo concetto di specularità è stato rilevato da vari studiosi tra cui Derrida nel suo nel suo testo dedicato a Paul de Mann e Foucault Lacan e Battistini che scrive che il soggetto non giunge mai a possedere un'autentica sovranità di sé emergendo da un discorso intersoggettivo con l'altro quindi c'è proprio un'idea relazionale del sé che è sicuramente molto diffusa nella cultura del ventesimo secolo questa relazione speculare intertestuale tra le geografie può anche essere messa in relazione con altre due idee da una parte l'idea che l'essere in sé non si possa raggiungere non si possa comprendere e a maggior ragione non si possa rappresentare e anche la difficoltà di esprimere l'esperienza religiosa traducendola in parole quindi il topos possiamo dire dell'ineffabilità e quindi per aggirare questo gap linguistico diciamo così questo gap nella questa impossibilità di descrivere l'esperienza spirituale si ricorre a topoi a figure preesistenti poi c'è anche l'idea di una un'idea della conoscenza che che implica un impegno profondo del sé veramente un mettersi in gioco in prima persona nei confronti della materia studiata ecco questo concetto è espresso molto bene da Roland Barth che parla di un particolare tipo particolare e particolarmente profondo tipo di piacere testuale determinato dal fatto di lasciare entrare un autore proprio nella propria vita al punto di dare origine a una coesistenza vedete qui le due citazioni che vi riporto Barth scrive quando il testo letterario il libro trasmigra nella nostra vita quando un'altra scrittura la scrittura dell'altro giunge a scrivere dei frammenti della nostra propria quotidianità insomma quando si produce una coesistenza vivere con un autore non vuol dire per forza compiere nella nostra vita il programma tracciato dai suoi libri e non si tratta di operare quello che questo autore ha rappresentato si tratta di far passare nella nostra quotidianità dei frammenti di intelligibili scusate di intelligibile tratti dal testo ammirato si tratta di parlare questo testo non di agirlo lasciandogli la distanza di una citazione e in un altro passaggio scrive quanto sarei felice se potessi applicare a me stesso questo motto di Brecht pensava in teste altrui e nella sua altri che lui pensavano questo è il vero pensiero a sua volta questo concetto implica un'idea di sé di fratto diciamo che diciamo anche supera il vecchio paradigma che oppone in modo dicotomico la soggettività e l'oggettività anche qua parte esemplare vi riporto altre due brevi citazioni oggi il soggetto si prende altrove e la soggettività può ritornare a un altro posto della spirale decostruita disunita deportata senza angaggio perché non parlare di me poiché io non è più sé e ancora perché se bisogna che per una dialettica ritorta ci sia nel testo distruttore di ogni soggetto un soggetto da amare questo soggetto è disperso un po' come le ceneri che si gettano al vento dopo la morte se io fossi uno scrittore morto come mi piacerebbe che la mia vita fosse ridotta grazie a un biografo amico e disinvolto a qualche dettaglio qualche gusto qualche inflessione diciamo dei biografemi di cui la distinzione e la mobilità potrebbero viaggiare fuori da ogni destino e venire a toccare al modo degli atomi epicurei qualche corpo futuro promesso alla stessa dispersione potremmo dire che questi biografemi verbali di cui Barth parla in questo frammento sono in qualche modo simili all'idea di punctum che lui teorizza nei testi visivi relativamente specialmente ai testi visivi queste idee trovano espressioni e poi si ripercuotono a loro volta nella scrittura autobiografica che è una scrittura nel caso di Barth che è caratterizzata dalla frammentazione dall'ibridazione dei generi come Barth stesso osserva in quello che è considerato il suo testo autobiografico per eccellenza che è Barth par Roland Barthes fra l'altro Barth descrive questo testo come le livre du moi il libro dell'io insomma in questo testo leggiamo come vedete nella slide tutto questo deve essere considerato come detto da un personaggio di romanzo o piuttosto molteplici perché l'immaginario materia fatale del romanzo e labirinto dei meandri diciamo nei quali si si forvia colui che parla di lui stesso è preso in carica da più maschere da più persone quindi nel libro c'è un'alternanza di maschere di persone e quindi la sostanza di questo libro è totalmente romanzesca e quindi c'è un'intrusione in questo discorso di una terza persona che però non rimanda a nessuna creatura fittizia e c'è uno sfidare un rimodellare i generi il saggio si appropria quasi si confessa quasi si rivela quasi un romanzo un romanzo senza nomi propri ora perché ho speso un po' di attenzione su Barth ho dedicato un po' di attenzione a Barth perché Julia Cristeva era una studentessa e una buona amica di Barth e quindi è ragionevole ipotizzare una influenza diretta o almeno un pensiero condiviso tra questi due autori arriviamo appunto a Julia Cristeva Julia Cristeva ha studiato l'opera di Teresa Davila per tanti anni e riferimenti a Teresa si trovano in tanti dei saggi di Cristeva ma il lavoro più importante dedicato alla Santa è questo Teresa Monamour che in Italia è stato pubblicato nel 2009 e che è un libro vasto e che anche qua sfida il confine tra i generi testuali quindi si presenta come una specie di miscuglio di autobiografia biografia saggio epistola e scrittura teatrale la componente autobiografica deriva dal fatto che Julia Cristeva presta diciamo così i suoi pensieri e anche le sue esperienze al personaggio della psicologa Silvia Leclerc che descrive la sua conoscenza con Teresa Davila attraverso lo studio delle sue opere il lavoro biografico è dato dalla narrazione della vita della Santa il genere del saggio è evocato attraverso l'approccio critico e erudito agli scritti di Teresa la letteratura teatrale è praticata in una sezione piuttosto lunga dell'opera che appunto prende la forma di una pièce teatrale e poi l'opera si conclude con la lettera di Derot in cui la voce narrante appunto si rivolge a Diderot stesso creando anche qua un gioco intertestuale perché confronta l'opera di Teresa con la monaca di Diderot ora applicando un principio vicino all'idea bartesiana di appropriazione dell'altro attraverso la coesistenza la narratrice definisce Teresa molto spesso come la mia coinquilina in realtà però questo processo di appropriazione in realtà risulta bidirezionale cioè risulta reciproco perché la narratrice dice di essere a propria volta come dire appunto vedete qua invasa invasa rincorsa da Teresa Davila scrive da quando emersa dal vagabondaggio delle mie notti sottomarine e si è imposta di default nel mio discorso Teresa continua a invadermi in ogni istante e non senza irritarmi ora come recita il titolo la narratrice spesso parla di Teresa come Teresa amor mio la mia Teresa ed è veramente la sua Teresa nel senso che la narratrice propone un'interpretazione peculiare diciamo del lavoro della santa connessa strettamente alla sua esperienza la sua esperienza di vita personale da una parte e al suo lavoro alla sua competenza scientifica e professionale dall'altra parte proprio perché dà un'interpretazione sia diciamo psicanalitica sia semiotica di Teresa e della sua opera chiaramente qui non entro nei dettagli della lettura psicanalitica ma menziono solo il fatto che secondo la voce narrante Teresa proietta se stessa sulla figura di Gesù che è il suo sposo mistico e che lei identifica con se stessa e quindi in qualche modo in questo modo è come se diventasse Dio lei stessa questa è appunto l'interpretazione proposta nel testo quindi possiamo dire che il testo della Cristeva presenta dei sé che sono proprio diffratti su differenti livelli testuale e che a tratti diventano veramente inestricabili come per esempio in questo passaggio che vi riporto qui che può essere definito come uno stream of consciousness un flusso di coscienza in cui la narratrice si appropria a un certo punto delle parole scritte da Teresa e quindi in cui i sé delle due diventano a un certo punto come uno solo dunque cito ave Teresa donna senza frontiere fisica erotica isterica epilettica che si fa verbo che si fa carne che si disfa in sé fuori di sé fiotti di immagini senza quadri tumulti di parole cascate di fiori convertiti in lingue all'ascolto di chi dice che cosa ascolta il tempo scolpito timpano gola grido scritto buio e luce troppo corpo e senza corpo fuori della materia utero vuoto attonito palpitante per l'amato sempre presente senza mai essere lì ma vi è essere essere egli è in lei lei è in lui presentito sentito inghiottito sensazione senza percezione dardo cristallo trafitta o trasparente questo è il dilemma trasverberazione e ancora inondazione lei è lui lui è lei la verità sono io c'è lui in fondo a me me Teresa paranoica riuscita Dio sono io e allora lei fuori di sé evidentemente colta da terrore da delizia la farfallina si spegne con indelebile gioia perché Gesù è diventato farfalla cioè Teresa Gesù farfalla Gesù donna conosco una persona che senza essere poeta scrive comunque poesie romanzi che sono poesie con qualcosa di più davvero mi domando se sono io Teresa che parlo il cammino è sofferenza il nulla di tutto questo tutto che è niente fate quel che è in voi ma con allegria ma sì Teresa sì sorella mia invisibile statica eccentrica fuori di te in te fuori di me in me sì Teresa amore mio sì ecco questa pagina contiene in nuce la maggior parte degli argomenti diciamo che poi vengono sviluppati nel corso del libro e che ovviamente qua non c'è il tempo di esplorare nel dettaglio l'identificazione l'identificazione con Gesù è possibile soltanto nel quadro dell'intertestualità e avete sentito nel frammento di prima quasi indiottendo l'altro vi riporto qui un altro brano che può forse illustrare meglio questo concetto dunque leggiamo nel libro di Cristeva ti rivolge a quei fedeli compagni di solitudine che sono la Bibbia i Vangeli i testi religiosi non diventi che un solo secondo che ti identifichi con Gesù se e soltanto se resti immersa nell'intertesto delle fonti canoniche divenuto in tal modo e ormai il tuo ambiente vitale la realtà principe ne riscrivi la retorica come se io fosse lui la tua ispirazione sarebbe dunque un inghiottire l'altro una riscrittura amorosa del suo corpo attraverso la riscrittura della sua parola nel tuo immaginario sbocciato da un germe esterno e quindi in qualche modo l'identificazione con Gesù può attraverso la scrittura e questo è il punto fondamentale quindi il ruolo fondamentale della scrittura può essere anche comparata a una particolare forma di adesione alla transustanziazione leggiamo appunto questa citazione la mia è una tesi esagerata che gli psicologi e gli scrittori potrebbero comprendere appropriandoti del linguaggio mediante la scrittura hai scoperto un'altra Teresa una nuova Teresa che ha trasformato il timore del giudizio di Dio in ascolto della voce dell'altro a furia di parlare e di scrivere assumi sia il giudizio divino sia il suo assorbimento perché sei al posto dell'altro l'altro prende posto in te quindi mediante la scrittura l'altro e ogni alterità cessano di essere proibiti o separati da me infatti scrivendo li penso li percepisco li possiedo li tocco e ne sono toccata la scrittura è appunto il passaggio all'atto supremo innocente la consumazione e assunzione finalmente possibile di tutti i divieti ecco è proprio tramite la scrittura che appunto Teresa costruisce un altro se e come vedete però nella 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 penultima riga si parla anche di finzione e su questo ritorneremo appunto tra pochissimo secondo Cristeva scrivere e narrare sono componenti fondamentali della esperienza religiosa e possiamo parlare di testualizzazione un'operazione di testualizzazione che diventa parte di un circolo interpretativo infatti l'estasi è indotta dai testi teologici ed evangelici che lei legge che Teresa legge avvitamente e poi scrivere la sua propria esperienza consente di costruire se stessa e anche di connettersi rispetto al mondo esterno il mondo dei suoi confessori ma anche quello della Spagna del suo tempo fino ad arrivare appunto noi lettori contemporanei secondo Cristeva e questa è un'idea molto interessante la verbalizzazione possiamo dire così dell'esperienza mistica dell'esperienza spirituale ha luogo soltanto a posteriori cioè dopo l'esperienza stessa cosicché è proprio l'atto di scrivere che coincide con la vera estasi anche qua forse appunto la citazione potrà chiarire un po' questo concetto l'estasi di Teresa così come giunge a noi è il fatto della sua scrittura la scrittura ricrea lo stato teopatico e l'estasi non esiste che allora a dire il vero Teresa non gode che scrivendo e ancora sono pertanto giunta a questa constatazione l'estasi di Teresa non sarebbe né più né meno che un effetto della scrittura allo stesso tempo come però vi anticipavo poco fa scrivere significa anche filare e tessere la finzione di quelle estasi tradurre l'ineffabile esperienza mistica in linguaggio verbale significa adattarla alla forma alla sostanza del linguaggio verbale significa come vi dicevo prima usare degli schemi delle figure dei tropi già codificati e pensiamo alla famosissima oppure comunque di tradurre ecco appunto un'esperienza ineffabile pensiamo alla famosa metafora delle sette delle sette mansioni dei sette del castello interiore e quindi scrivere questa esperienza è necessariamente una fiction una traduzione e finzione questo processo narrativo tuttavia diventa proprio il cuore dell'esperienza religiosa che rimpiazza l'esperienza ineffabile e diventa anche una così un proprio modo di pensare Teresa dice di scrivere nella sua opera dice Christeva di pensare in forma di romanzo questo principio che è stato espresso anche in generale ovviamente non riguardo al caso di studio di cui ci stiamo occupando è stato rilevato anche da Battistini che osserva che la scrittura converte l'io al pari della sua vita in fiction in personaggio che spogliatosi della sua carne indossa il fragile velo delle parole nel caso di Teresa dice Christeva un altro tratto notevole è diciamo anche qua la dimensione quasi performativa di questo atto del narrare dello scrivere fondi perché scrivi perché Teresa Davile è stata una fondatrice di conventi e secondo Christeva appunto c'è proprio un parallelo tra l'esperienza della scrittura della costruzione del set tramite la scrittura e la fondazione dei conventi vi leggo soltanto l'ultima citazione in questa slide che dice nella nuova economia della scrittura amorosa e del nuovo corpo dell'altra Teresa che si costituisce a furia di scrivere e fondare non potrebbero esistere barriere tra parole e cose scrivere e agire leggere e fare vi propongo alcune appunto conclusioni che vi dicevo sono provvisorie sono ancora infieri ma che ci tengo appunto a condividere Christeva a sua volta quindi adotta un tipo di scrittura che è veramente a cavallo tra la biografia e l'autobiografia e anche che sfida decisamente il desiderio di cercare di identificare un genere particolare per questo tipo di scrittura che invece si fonda proprio sul mescolarli tutti questo tipo di scrittura ha due varie conseguenze tra cui da una parte un sé che compare un po' dappertutto perché si tratta di una scrittura autobiografica frammentata e diffusa diciamo così diffusa all'interno dell'opera omnia dell'autrice ma nonostante questa quasi onnipresenza di questo tratto autobiografico corrisponde anche a un velamento del sé proprio perché il sé non si rivela se non in questo gioco di specchi se vogliamo implica anche l'addomesticamento dell'altro come si diceva prima l'inghiottire l'altro il farlo proprio secondo appunto il principio bartesiano di cui abbiamo parlato prima ma se parte un po' più diciamo delicato parlando di coesistenza e la stessa cristeva abbiamo visto spesso definisce Teresa la sua coinquilina altri scrittori e altri critici descrivono questo tipo di relazione tra il lettore e il testo specialmente aggiungo il testo biografico e autobiografico come vampirismo Battistini per esempio seguendo Italo Calvino Massimo Romano e Henri Troia scrive che come l'autobiografia è una maschera che impedisce all'io di mettersi completamente a nudo così il biografo è un vampiro che succhiando sangue all'altro lo assimila al proprio organismo alterandone con sopraggiunta simbiosi emotiva e intellettuale la fisionomia originaria ora riferendosi alla distinzione ben celebre tra la storia e il discorso Starobinsky definisce l'autobiografia come storia discorso perché l'autobiografia include da una parte la narrazione di eventi passati ma dall'altra anche uno stile enunciativo che coinvolge degli interlocutori quindi ha una forma appunto dialogica perché c'è un soggetto parlante un narratore diciamo così e uno più interlocutori come nel caso tradizionale e quello che molto probabilmente storicamente ha dato origine al genere autobiografico della confessione vi ricorderete dal primo intervento che ha aperto questo seminario dove Francesco Marciani parlava proprio del genere della confessione spiegandoci che in esso la voce narrante si rivolge non solo agli altri esseri umani al potenziale lettore ma anche a Dio ora la scrittura autobiografica praticata da Cristeva ma anche altri aggiunge un ulteriore livello in questo schema comunicativo che consiste nel dialogo che deriva da questa coesistenza con gli altri autori nel caso di Giulia Cristeva proprio appunto Teresa Davila ancora una volta questa citazione che vi propongo adesso può essere esemplificativa di questa complessa costruzione dialogica nel brano che sto per citarvi vedrete che ci sono tanti soggetti chiamati in causa ci sono tanti interlocutori che partecipano a questo discorso quindi cito amo perché sono amata dunque sono tale mi sembra il tuo credo Teresa amor mio ma questo aspetto solare della tua estasi si sorregge su uno strano essere l'uomo che ti ama e tu ami è un figlio e al tempo stesso un padre sofferente picchiato e messo a morte per poi risuscitare l'hai capito il mio dialogo con te è anche un dialogo con Freud apro qui una parentesi nel racconto della mia coabitazione con Teresa per rivolgermi ai miei colleghi psicologi e anche qualora intendano seguirmi ai credenti cui potrebbe interessare di sapere come la loro esperienza può essere affrontata dall'esterno ecco un testo più discorsivo di questo è difficile immaginarlo e vi riporto anche questa citazione da Franco Ferrucci le autobiografie in realtà sono testi che non parlano del loro autore ma di altri testi di quell'autore e infatti e questa citazione assume un particolare significato in questo caso proprio perché appunto come abbiamo visto il dialogo c'è una forma di scrittura anzi scusate c'è una forma di scrittura autobiografica ripartita sparpagliata all'interno delle varie opere e questo crea un ulteriore livello intertestuale perché fa dell'opera omnia dell'autrice un reso un network una rete intertestuale coerente fatta di isotopie che il lettore attento non fa fatica a decifrare e che appunto costruiscono una fitta rete di rimandi interni all'interno dell'opera rimandi che a volte sono anche appunto come vi dicevo proprio di carattere autobiografico perché è rilevante questo dialogo per Cristeva questo dialogo con Teresa Davila anzi proprio questa coabitazione con Teresa Davila ma in un altro passaggio di questa di questa opera Cristeva dedicata a Teresa Cristeva scrive e se invece percorresti un modo di essere cercato nella tua epoca cercato tutt'oggi per iscritto ma anche con altri mezzi tra sé e non sé sé e altro sé e con gli altri quindi Teresa è proprio vista come un esempio di questo particolare modo di trovare il proprio sé perdendosi nell'altro o assorbendo inghiottendo l'altro e Cristeva stessa rappresenta un ulteriore tentativo in questo senso naturalmente per lei non possiamo parlare di abbandono in Dio come nel caso di Teresa Davila lei così come il suo diciamo il personaggio che la rappresenta all'interno dell'opera questa psicologa Silvia Leclerc proclamano la loro indipendenza rispetto alla religione ma sicuramente anche lei pratica una tecnica di diffrazione del sé sia rispecchiandolo nell'altro che appunto in tanti frammenti all'interno della sua opera ancora una volta proprio come nel caso di Teresa questa operazione è compiuta tramite la scrittura e creando proprio appunto questo complesso gioco di specchi per esempio gioco di specchi che si può rilevare leggendo quella che si presenta come l'autobiografia vera e propria di Lulea Cristeva la vita altrove autobiografia come un viaggio in realtà anche questo è un testo discorsivo perché è organizzato come una intervista proprio perché vedete che non si riesce non riesce a a a definire se stessa se non in dialogo con l'altro in questa autobiografia leggiamo la citazione che appunto vedete qua nella slide allora no in realtà scusate questa è una citazione da sempre Teresa Monamur ma che in qualche modo crea un parallelo con il testo della autobiografia che però è successiva a Teresa Monamur praticamente si scrive in Teresa Monamur lei si viaggia direbbe la giornalista Stefanie della Cour che si esprime con neologismi come Giulia Cristeva ai suoi inizi nel giallo metafisico morta a Bisanzio bulgara di origini francese di nazionalità cittadina europea americana d'azione giornalista psicanalista semiologa romanziera e che altro anche in lei motivi caleidoscopi quindi in Teresa Monamur ci sono vari punti in cui parla di Giulia Cristeva alla terza persona ma questa idea del viaggiarsi in realtà le appartiene come vediamo dal fatto che pochi anni dopo intitola la sua autobiografia appunto autobiografia come un viaggio quindi veramente è proprio tutto un gioco di rimandi quindi appunto la Cristeva fa un'applicazione magistrale di una tecnica di scrittura ispirata all'idea di intertestualità la conseguenza di questo tipo di scrittura che come abbiamo detto ha anche un carattere narrativo fictional proprio intrinseco è il fatto del possiamo dire quasi un'esplosione del sé che proprio sente il piacere di perdersi atomizzarsi nella rete intertestuale ma poi ritrovarsi grazie alla rifrazione di se stesso nell'altro che coesiste in Teresa Monamour Cristeva molte volte specialmente nel secondo capitolo si concentra sull'importanza della metafora dell'acqua nella descrizione che Teresa fa della sua esperienza spirituale al punto che l'acqua appare come l'elemento per eccellenza di Teresa e questo riferimento all'acqua è un punto in comune ulteriore che associa Giulia e Teresa e che contribuisce alla creazione proprio di questa rete intertestuale perché nella vita altrove Giulia Cristeva dice di se stessa chi è la Giulia Cristeva di cui stiamo parlando mi consenta di confessarle una cosa non riesco ad abitare la mia immagine quella che gli altri mi restituiscono io mi vedo come in viaggio il mio elemento potrebbe essere l'acqua viva e il mio scopo seguire questo flusso fare da apripista scrivo romanzi per rendere palpabile e trasmissibile questo vissuto ecco è una dichiarazione diciamo quasi di poetica molto molto coerente con appunto la sua opera se parliamo di acqua allora potrebbe essere pertinente parlare di nebulizzazione del sé quindi quest'idea di acqua di un sé fluido implica anche che è impossibile cogliere il sé così com'è nella sua diciamo così forma solida che forse non possiede nemmeno la metafora dell'acqua può suggerire appunto questa idea di nebulizzazione del sé che può trovare una sorta di conferma in due metafore usate sempre da Julia Kristeva in Teresa Monamur la metafora del profumo e la metafora del dripping cioè appunto della tecnica del gocciolamento che si usa in arte e della condensazione vedete qui queste due citazioni che riportano queste due metafore la prima riguardo appunto al profumo Teresa non costruisce una fortezza di difese ma una rassicurazione narcisistica e ideale sublime dove siete invitati a dissolvervi in profumo a intossicarvi ma in una dolce pace proprio così in profumo il solido che si distilla si chiama sublimazione e ancora è il mio patchwork di ricamatrice il mio canovaccio policromo affinché le mansioni della mia santa se ne distacchino pur associandosi a essi restringo il mio gesto ritmo il mio dripping raccolgo il tempo nello spazio di una condensazione per concludere il lavoro di Teresa dovrebbe essere anche interpretato o letto nel quadro di una serie più ampia di suoi lavori su figure femminili straordinarie altre coinquiline di Julia Cristeva sono state Anna Arendt Melanie Klein e Colette che fra l'altro sono protagonisti del libro della Cristeva sul genio femminile nello spirito di questa intertestualità vorrei proprio chiudere con questa citazione dall'autobiografia di Julia Cristeva in cui lei parla di queste figure femminili come un'ultima testimonianza che voglio lasciarvi sul suo modo di approcciarsi all'altro e appropriarsene e anche lasciarsi lasciare che l'altro si impossessi in qualche modo di lei sono diventate le mie coinquiline abito con loro qualche volta litighiamo la loro forza vitale mi accompagna e mi sostiene gli studi che dedico loro intrecciano biografie e opere mi piacerebbe che i miei studenti i miei lettori si aprissero i loro scritti veri e propri laboratori dove la vita e il pensiero si illuminano a vicenda grazie per la vostra attenzione interrompo la mia condivisione e passerei direttamente a presentare la nostra Silvia Barbotto allora Silvia è attualmente ricercatrice nel progetto IRC Facets diretto dal professor Massimo Leone qui all'Università di Torino è docente nel campus di architettura arte e design dell'habitat presso l'Università Autonoma dello Yucatán in Messico si occupa di semiotica del volto autoritratto ritratto nell'arte fisognomica comparativa orientale occidentale linguaggi multimedio e percezione si è adottorata in arte produzione e investigazione presso il Politecnico di Valencia Accademia di Belle Arti San Carlos ha vinto nel 2010 una borsa di studio degli affari esteri potendo così trascorrere un anno per fare ricerca a Merida in Messico ed è stata docente di semiotica della cultura progettazione artistica introduzione alle arti visive percezione semiotica dell'arte il suo lavoro integra aspetti teorici e pratici cioè parallelamente alla sua attività semiotica più diciamo teorica conduce anche un'attività artistica vera e propria unendo quindi la sperimentazione appunto la pratica artistica alla biosemiotica alla semiotica della cultura arte storia dell'arte suono multimedia fotografia oggi ci parla della mistica nell'arte parallelismi tra autobiografie e autoritratti spirituali grazie Silvia ti cedo subito la parola grazie Geni grazie anche a Magdalena generosissima la tua presentazione e grazie anche colleghi colleghe e insomma studentesse e studenti che ci che ci ascoltano e sono molto contenta di questo incontro che mi ha dato modo di approfondire parzialmente anche io considero ciò che vi condividerò insomma un processo iniziato proprio con questa opportunità condivisa di dialogare di riflettere sulle autobiografie spirituali in qualche modo io ho cercato di far dialogare con quel che è un po' il campo che è più approfondito negli ultimi anni che invece è più legato al visivo all'arte in generale e quindi mettere un po' sul stesso piatto quelle che sono le autobiografie e le autorità fatti l'ho fatto in termini sia appunto congressuali di questo momento e anche parzialmente didattici in cui vediamo delle apportazioni accennate teoriche e anche degli spiriti diciamo un po' più invece legati allo stimolo creativo che è solito essere un po' presente in quelle che sono poi magari le classiche sto cercando di portare avanti all'università sia di Torino che del Messico e cercherò anche ovviamente di avere un occhio di riguardo riguardo appunto al tema che con cui stiamo affrontando insieme ad altri colleghi del gruppo di ricerca FACETS quindi il volto vediamo insieme iniziando un po' con un masterpiece tratto da Egon Schiele vorrei iniziare da questo esempio che poi l'unico diciamo di inizio novecento è l'unico legato alla pittura per poi invece andare avanti e concludere con il mondo più fotografico del tardo novecento inizio duemila e della fotografia contemporanea scelgo Schiele perché forse tanti di noi lo conosciamo perché è conosciuto soprattutto per quelli che sono i suoi nudi non tanto per i suoi autoritratti e anche perché ho scoperto poi essere un scrittore favoloso che ha lasciato appunto diari ha lasciato lettere epistolari che vorrei in parte condividere con voi oggi infatti leggerò alcuni tratti da schizzo per un autoritratto che racchiude appunto alcuni dei suoi testi che potremmo definire autobiografici farò così anche poi per i prossimi artisti presentati cioè quel che ho cercato di fare in questa occasione di condivisione anche di inizio di diciamo di approfondimento di un tema che amo e che al tempo stesso è piuttosto complicato è quello di fare un po' da intermediario cercare di cercando di dar voce agli artisti stessi e quindi mettendo appunto in evidenza quel che sono gli aspetti visivi e quel che sono invece le loro o autobiografie in alcuni casi o interviste in altri casi che ho potuto che ho avuto modo di svolgere direttamente con alcuni di loro dice Gonchile in me scorre antico sangue tedesco e sento in me la natura degli avi da personaggi pianeggianti con viali primaverili e da furiosi tempesto ho assorbito le impressioni dell'infanzia che si perpetuano nell'immaginario in cui i primi giorni era come se sentissi già e odorassi i fiori prodigiosi i giardini muti gli uccelli nei cui occhi lucenti mi vedevo rispecchiato in sfumature rosa spesso mi si umidivano gli occhi all'arrivo dell'autunno quando era primavera invece sognavo la musica universale della vita il sentimento più alto è quello della religione e dell'arte la natura è funzione ma Dio è là e io lo sento intensamente molto intensamente con la massima intensità ecco ovviamente ho estrapolato alcune parti legate al nostro tema portante diciamo che in termini generali riguardo ovviamente il misticismo è la spiritualità ed è qui con questi iperbole del molto intensamente ma anche con una sorta di figura retorica dell'accumulazione una forma di enumerazione massimizzata ecco che ti sento Dio nella massima intensità credo che non esista un'arte moderna ci dice Scille c'è solo un'arte che non conosce interruzioni e qua mette un po' ovviamente già in evidenza quella che la relazione è costante per la semiotica cioè la testualizzazione di cui già Geni ha accennato e di cui altri autori hanno fatto e leggerò posteriormente alcuni estratti anche di questo però ciò che ci dice ecco la continuità che non conosce interruzioni e che invece grazie a queste testualizzazioni visive o narrative vengono invece discretizzate diciamo così parlo la lingua del creatore dice Scille e offro demoni spazzate la violenza spezzate la violenza la vostra lingua il vostro segno il vostro potere ecco in questo momento avviene una sorta di categorizzazione valoriale e posteriormente accentuata ancor più da una pervasione del corpo quindi un'esclusione diciamo da quella che è la violenza e un'immedesimamento un'invasione corporea invece in quella che chiamano la divinità dice infatti dovebbe inizio qualcosa di grande l'unico mondo gli divenne simile Dio era privo di tutto io corsi là lo senti lo fiutai intervengono quindi già altri sensi e ci dice così sei tu orecchio vento bocca così è per te ciò che è forma un'ultimissima parte che raggiunge una specie di auge un passo importante una specie di risoluzione in quella che poi è la relazione arte e religione e ci diciamo la vita amo immergermi nelle profondità di ogni essere vivente ma borrisco la costrizione che mi lega ostilmente che vuole obbligarmi a una vita che non è la mia abbazzamento opportunistica di puro profitto priva dell'arte priva di Dio ecco alcuni procedimenti che ho cercato di affrontare in questa presentazione uno l'avvicinamento all'autoritratto partendo dal genere macro genere del ritratto l'identificazione poi della presenza di spiritualità o misticismo nell'autoritratto e proveremo a vedere come e il parallelismo tra autoritratto e autobiografia questi tre movimenti è bene sottolineare che non sono consecutivi né lineari ma invece sinergici e vicendevolmente inferenziali infatti per esempio nel caso appena citato di Egon Schiele quello che dai dipinti traspare perché presente però invece non è esplicitato cosa evidente invece poi in una specie di trasduzione interna dell'ipseità che si narra quindi della autobiografia e quindi è contundente si fa presente si fa evidente oltretutto è interessante notare come alcune di questi frammenti letti che fanno parte appunto di questo libro poi tradotto nel 99 hanno proprio il titolo autoritratto evidenziando quindi una sorta di possiamo pensarlo come pensiero sinestesico il quale si narra denotando forti connotazioni qualificanti proprio la sfera mistica il suo linguaggio infatti è principalmente visivo però si integra con questi tratti di quaderni e di lettere gran parte dei quali è tratto dal diario di Neulebach che è una cittadina austriaca in cui Scile appunto passò dalle tre alle quattro settimane nel 1912 in occasione di un incarceramento dovuto proprio ai suoi lavori ai suoi dipinti considerati osceni e che fecero scalpore motivo per il quale passò questo periodo in carcere narrato in questi diari in questa raccolta l'autoritratto abbiamo detto appartenere al macro genere del ritratto il quale cambia profondamente nel corso dei secoli tra i primi troviamo i cosiddetti contraffatti dal vivo nel 1220 ci sono i primi ritrovamenti appunto scritti dall'architetto francese Villard de Honne Court e descritti esser così simili al vero da istigare scopi fraudolenti qua una parentesi che non indaghiamo sono i primi scritti in cui viene messa in luce la parola non si nega che è bene ed è necessario ovviamente andare poi a ritroso per ritrovare altri esempi in altre culture di autoritratti nonostante forse la denominazione non fosse tale inizialmente pittorico il primo ritratto poi perduto sembra essere del 1336 e ricopre in questo momento la sfera pubblica dei personaggi influenti ed illustri ma poco per volta si appropria l'autoritratto invece degli ambiti più privati la posa assume un ruolo preponderante per rientrare in tale genere e se inizialmente il riquadro includeva esclusivamente parti del volto e poco per volta sempre maggiori delle braccia delle mani per poi arrivare al busto intero un occhio di riguardo va posto sul contesto che inizialmente era quasi assente o appena accennato poco per volta invece il contesto diventa poi uno sfondo ricco di materie e di contenuto impiegando maggior rilevanza e consapevolezza nel ruolo iconografico rappresentato e invitando la sperimentazione apertura nella scelta di cosa mostrare di cosa escludere e di come costruire proprio la scenografia in termini di Peter Brake un testo dell'88 in Cohen si dice che assistiamo proprio in questo periodo a una sorta di democratizzazione del ritratto perché poi vi sia il passaggio quindi da ritratto si parli invece di autoritratto vi deve essere una sorta di cognizione di autorità di autorreferenzialità di chiamiamola autocoscienza espletata proprio dallo stesso suffisso auto prefisso scusate una strategia una specie di strategia narrativa imbricata un posizionamento espletivo endogeno e una focalizzazione interna che nei termini genettiani è stata sottolineata da Ugo Volli in uno dei degli incontri dei primi incontri proprio di autobiografie spirituali il quale poi la distingue dalla invece focalizzazione intima perché si tratti quindi di autoritratto ma oltretutto di autoritratto spirituale o mistico oltre che a tutti gli elementi appena citati devono essere presenti alcuni elementi riconoscibili o riconducibili alla categoria del misticismo o della spiritualità le due le due categorie non completamente assimilabili vicendevolmente ma per ora diciamo trattate insieme tali caratteri potrebbero essere tipologizzati nei seguenti modi diciamo così semplificando per uno estensione quindi plastica vibrazionale o evocativa per ostruzione in cui andremo a eventualmente calcolare proprio la gradazione l'intensità o la riverberazione eventuale e per idiosincrasia in cui andremo appunto a addentrarci nel tempo spazio quindi intrinseco e imbricato cioè il corpo il volto la situazione o la tecnica in scilla evidente perché ce ne parla lui stesso una sorta di scrittura intima ci parla della relazione con la divinità con la magnitudine dell'universo ma è evidente anche perché paradigmaticamente intrinseco alle nervature del quadro stesso i netti tratti patemici e fisici sono in qualche modo innalzati dalle sfumature acquerellate la cui associazione complementarietà sfocia estendendosi plasticamente ed evocativamente in un intervento mistico oltre che materico e la stessa materia artefatta intervenuta dall'intuizione della profonda coscienza della grandezza cosmica rendersi mistica e la linea del tempo spesso stile quando sincronico al vissuto dell'artista quanto prodigo invece a posteriori come spesso succede e quindi acquisendo una dimensione diacronica e Schiele questo lo sapeva infatti sembra che l'ingimirante in fin di vita abbia proprio affermato io sto morendo ma i miei quadri dureranno per sempre nonostante idiosincrasia sia poi l'essema che abbia adempito a usi disciplinari di vario tipo esulando quindi dalla propria radice etimologica è bene sottolineare perché è molto inerente infatti è un composto dal greco antico che significa proprio proprio cioè idios e sincrasis che starebbe per inclinazione spirituale o carattere i temperamenti idiosincratici negli autoritratti spirituali possono essere e ne numeriamo tre per ora per ora distinti possono essere pertinenti all'autoritrattato o autoritrattata per esempio immaginiamo una persona autoaffermata e riconosciuta socialmente perché già di sé una persona mistica o due tematicamente presentati o dimostrati o dichiarati attraverso per esempio la presenza di simboli di coni o di effetti oppure isotopicamente stabiliti per esempio nel titolo quando vediamo un testo visivo che non necessariamente rimanda né a un autoritratto così evidente né a un misticismo così evidente ma poi il titolo va invece a complementare in modo appunto isotopico il testo visivo tali punti rientrerebbero poi nella lettura complessiva di un'opera d'arte la cui affermazione è sempre relazionale questo l'ha già accennato Jenny è interessante poi continuare a parlarne quindi l'affermazione è sempre relazione intersoggettiva e possiamo dire transoggettuale si costruisce quindi una specie di campo mistico il cui formarsi processuale dove rimandiamo alla forma formante di Umberto Eco e in continua stabilizzazione tra le soggettività scriventi quindi l'autoritrattato o ritrattata l'opera d'arte e i contemplanti mistica risulta dunque essere tale circolazione nel suo insieme e quindi mistica mistico questo insieme e non necessariamente non solamente intrinseca a un corpo in sé ma piuttosto appunto dinamica e parte di una circolazione semiotica torniamo poi ora la costituzione e formulazione del quadro stesso e vediamo che la modalizzazione del divenire autoritratto si esecuta in seno all'interazione di materialità tecniche e performatività i cui risultati variano a seconda dell'indole costitutiva degli stessi esplicitandosi quindi attraverso medium diversi citando a Poppi che ci dice il tema dei rapporti tra pittura e fotografia all'interno del più vasto campo dell'arte visiva e di particolare attualità nei giorni nostri che rivelano la tendenza sempre più diffusa alla sostituzione nell'opera d'arte del materiale visivo prodotto meccanicamente a quello creato dalle mani ci riferiamo infatti nei seguenti testi a fotografie inizialmente proveniente dalla grafica invece in quanto disegno incisione eccetera dalla scultura e dalla pittura il ritratto diviene poi pratica diffusa nella e con la fotografia fotografia che intendiamo per ora come artistica documentale antropologica etnografica eccetera questo fare fotografico nell'autoritratto implica anche uno scostamento spaziale e vettoriale la direzione dell'obiettivo implica infatti nel suo raggio di cattura anche il fotografante nell'antropologia visiva questo giro orizzontale assume un ruolo fondamentale nella concezione nella rappresentazione non solamente dell'ipseità ma anche dell'alterità se da una parte pensiamo all'origine dell'autoritratto al tempo stesso dobbiamo riflettere per alcuni istanti alla sua evoluzione prossima e per esempio citare anche solo un passant la consuetudine dei selfie che sono poi appunto un'evoluzione diciamo un sottogruppo dell'autoritratto Massimo Leone nel suo testo del 2018 infatti ci parla molto dei selfie che li riporta alla tripartizione dell'intensio autoris lectoris e operis ricordando Umberto Eco tripartizione tripartizione in qualche modo riconducibile alla precedente suddivisione che per quanto non si fondasse sull'intenzionalità considerava però proprio il trittico autore lettore opera e Leone pone l'attenzione principalmente sull'intensio operis o perlomeno noi traiamo alcune citazioni da questo passaggio in cui ci dice proprio che e semiotica structure intrinsic to this form of self representation produce meaning independently of any individual psychology or collective sociology because it essentially depends on the place that self occupies in the history of the culture of representation and self representation of the body and above all of the face quindi ovviamente ci ricorda l'attribuzione sostanziale del contesto nel quale ci troviamo nella contemporaneità quindi sottolineano gli aspetti psicologici e sociologici nonché antropologici di questa evoluzione in quanto selfie sembra esserci dunque una parziale divergenza nonostante tutto tra selfie e autoritratti che proprio in inglese è tradotto come self portrait riguardanti soprattutto la specificità dei medium l'intenzionalità pregressa e lo status nell'immagine creata o secondo alcuni invece la differenza sta proprio nel fatto che i selfies e cito are images shared as part of conversation a serie of contextual interaction are connected to the self maker in intimate and body and felt way quindi sembra in qualche modo che i selfie siano un aspetto personale una forma personale di chatting rather than a permanent starting point for a larger narrative cosa che invece è più attribuita agli autoritratti il frangente differenziale tra selfie e autoritratti è comunque opaco e sarebbe in qualche modo opportuno considerarli come l'uno sotto insieme appunto dell'altro quindi qualsiasi elemento del selfie sarebbe a sua volta elemento del autoritratto ma non viceversa il volto ovviamente ha un ruolo preponderante in questa dinamica nell'azione del fare autoritratto nel girare la macchina nel spostare il corpo quindi nella spazialità topologica in una sorta di gestualità semiotica possiamo dire intrinseca tale scelta l'abbiamo già accennato in precedenza ma a questo punto bisogna anche chiedersi quali siano questi caratteri eventualmente mistici presenti sotto forma di segni o evocati o simbolizzati ad alcuni autoritratti come rispondiamo a tali domande ci proviamo facendo ciò che segue e in una specie di chiamiamola virata epistemica e posizionandoci intanto uno appunto dalla parte di artisti artiste principalmente fotografi e fotografi di diversa latitudine cultura credo ideologia due evidenziando un parallelismo tra autobiografia e autoritratto perché nella maggior parte dei casi sono loro a raccontarsi direttamente su stimolo di interviste o racconti tre includendo la rappresentazione del sé nell'autoritratto a quale forma di registro di pratiche performative pregresse il cui segno tangibile rimane tratto nelle fotografie quattro accennando alle pratiche di imbricazione o dissoluzione del sé e questo meraviglioso nonostante fosse pensato appunto il dialogo che si può creare proprio con l'intervento precedente di di dissoluzione del sé perché comunque è un tema molto interessante e che necessita di continuazione continuità nell'essere contemplato e cinque includendo infine alcune pratiche così che vi condividerò rapidamente di proprio di pratiche autobiografiche o di autoritratto avendo anche Jenny accennato il fatto che anche un diletto in pratiche artistiche chiamiamola così vedremo dunque immagini accettando temporalmente l'indistinzione tra immagini e segni in termini di Gombrich nel suo testo dell'82 il quale osservò che anche l'immagine contiene un codice da decifrare imponendo in termini concettuali il superamento della distinzione tra immagine e segno continuiamo quindi a capire l'autoritratto una specie di approssimazione semi etnografica iniziando da Graciele Iturbite iniziando continuando questa artista contemporanea ha avuto il piacere e modo di intervistare anche in occasione di un futuro testo dei saggi di lexia del rostro latinoamericano che uscirà prossimamente e un testo molto lungo un'intervista molto piacevole in spagnolo vorrò condividere alcuni tratti perché questa è lei sono i suoi autoritratti e al chiederle appunto cosa pensasse della mistica della spiritualità quali fossero secondo lei i suoi testi visivi richiamanti questa questa profondità lei ci parla immediatamente di San Juan della Cruz essendo uno dei suoi riferimenti spirituali più elevati e soprattutto le sue qualità del pacaro solitario che sono cinque il fatto che vabbè cito ogni tanto in lingua intanto più o meno ci siamo che vuela molto alto quindi sia il spirito in questo passo si pone di altissima contemplazione dos pone il picco nell'aere asia donde viene l'espirito dell'amor tre se sta solo pare star in la soledà con dios quattro canta suavemente e cinque finalmente non es di alcun determinato color questo ultimo punto è anche molto interessante perché sottolinea maggiormente rispetto agli altri proprio la dimensione plastica e l'accenno al colore e da grazie le turbide sottolineate il fatto che invece lei continui tuttora a lavorare solamente con il bianco e nero oltre che parentesi solamente con la fotografia analogica ci accenna poi in un discorso molto interessante tutta la sua passione ai sufi al fatto che legga molto a tar ma anche a culture invece più animiste o di afrodicendenza il suo amor la sua vicinanza con Cuba e col fatto di aver avuto in alcuni momenti l'eleguà e ci racconta di un amico che è proprio giunto a Cuba e gli dice io ti faccio l'eleguà è una specie di ci dice qua tramite questo suo amico Santero che la vuole iniziare in qualche modo alla cultura afro o iorubà e in tale rituale al presentarsi l'eleguà Graciele Iturbide dice sempre io il mio intermediario quindi ecco proprio questa visualizzazione questo accesso a forme mistiche però anche grazie o dovute proprio all'intermediazione quindi non sempre a un'esperienza diretta ci racconta alcuni momenti in cui ancora per esempio vi leggo solo più questo gli viene chiesto lei lavora molto messicana lavora molto in latino america in varie regioni in tante comunità e soprattutto lavora proprio a contatto con le persone gli viene chiesto come vive l'alterità ci sono foto magnifiche di lei con tante persone di comunità di vario tipo e a tale domanda lei invece ci dice l'alterità in realtà siamo noi e nel momento in cui io fotografo qualcuno non c'è alterità ma invece ci deve essere complicità qua in questo autoritato vi è un uccello morto uno vivo una sorta di risveglio spirituale che in una specie di illuminazione descritta in molte culture sembra avere un filo conduttore comune per cui l'abbandono dell'ego sarebbe un fattore imprescindibile la dicotomia vita e morte esplicitata appunto dal fatto che sappiamo o vediamo essere uccello vivo e uccello morto e notiamo anche come contemplare la dimensione del sacro sacro sia appunto come sottolineato da lei avere un sentimento di fede nell'alterità ed avere anche in questo caso i mezzi tecnici e conoscitivi per poter testualizzare tale contatto con l'alterità questa è da lei pensata e condivisa come una forma della mistica vado poi magari mi dite voi comunque continuo ancora almeno una decina di minuti proprio per condividere immagini parlare un po' di questi artisti contemporanei qui abbiamo qui abbiamo Foncuberten il quale ci ha dato anche appunto concessione e in contatto diretto abbiamo avuto modo insomma di approfondire le sue opere un artista contemporaneo fotografo spagnolo però abbiamo una sorta di virata e vi dico perché la sua è una proposta critica rispetto a quelli che lui chiama essere i falsi profeti si impegna infatti tramite le sue fotografie a far emergere questa falsità qua abbiamo tre autoritratti tre di tanti è interessante leggere i titoli uno il milagro della cefalopodizzazione cefalopodizzazione milagro miracolo dell'ubiquità e miracolo di Carol Lewis uno il termine coniato la cefalopodizzazione il cefalopod significa testa e piedi i cefalopod sono molluschi dove la testa è munita di tentacoli riconosciuti soprattutto i polipi per essere dotati di tantissime caratteristiche avanzate tra le quali ve ne cito solo alcune la capacità mimetica infatti il polipo non ha né colore né consistenza stabile ma cambia piacimento a seconda dell'ambiente il sistema nervoso è centralizzato ma non esiste distinzione netta tra cervello e corpo la malleabilità corporea quindi la massa di tessuti molli senza ossa è capace di ridursi in pochissimi centimetri la forza cioè le ventose hanno una forza e potere da sorreggere pesi enormi la capacità di trovare soluzioni complesse a problemi se ha problemi inoltre i cefalopodi appunto sanno usare strumenti sanno mentire oltre che essere proteiformi cioè un tutto possibilità e avere si dice del polipo mezzo miliardo di neuroni più o meno come un cane pensiamo invece che un essere umano ne ha circa cento miliardi quindi insomma i cefalopodi hanno un elevato rapporto tra volume cerebrale massa corporea un segno di quanto questo animale investa nelle proprie capacità cognitive abbiamo poi appunto il secondo autoritratto che crea una specie di isomorfismo nel titolo cioè Carol Lewis quindi portiamo al testo che tutti conosciamo di Alice nel Paese delle Meraviglie in una sorta di lettura interpessuale noi dobbiamo entrare nel testo dove non c'è un volto di per sé quindi siamo abituati a immaginare l'autoritratto come il volto di sé ma invece qua abbiamo un autoritratto con tanti indizi che dobbiamo andare a leggere e interpretare infatti se notiamo il testo che ha tra le mani la clavicula di Salomon vediamo che è un grimorio cioè un tipo di libro dal conoscimento magico europeo generalmente datato seta media poi c'è ovviamente lo specchio e l'inversione dell'immagine questo progetto però contestualizzandolo in generale è stato premiato è stato presentato a Foto Spagna nel 2002 e fa parte di una serie grande che si intitola Miracoli and Company un composto di fotografie di reportage fatte da Foncuberta nel monastero ortodosso di Vallamond in Karelia la regione finlandese vicino alla Russia questo è diciamo ha dei legami con la finzione perché Jean Foncuberta usa quest'occasione per mettere a per approfondire il giornalismo di ricerca di investigazione e la fotografia documentale documentaria proprio per pare emergere casi di diciamo falsi profeti dice lui infatti per realizzare questo reportage Foncuberta finge di essere un apprendiz del popo ortodoxo e seguì lo recurso del Valdemond junto al resto di secolo di secolo di acqua di acqua di fogo al tempo che recopilava fotografia e altre pruebas che pudieron desenmascarare tama super cheria la fotografia poi muestra la vita quotidiana del monastero carelliano e si centra especialmente en los ejercicios de las supostas actividades sobrenaturales assicché son autoretrato a un que joan fingia serotro ossia un apprendiz de popo ortodoxo e quindi appunto Jean Foncuberta propone uno studio critico e ludico della superstizione citando la sua parola dice la deriva a ciò che emerge essere come fanatismo e ci ricorda anche l'origine del termine fanatismo che viene da fano in postia tempio quindi appunto nel suo caso c'è una virata dove la religione è caricata è un'arma caricata di futuro il controllo delle anime predispone al dominio del mondo e cito ancora i muchos falsos profetan hanno intentado sacar tacar della forza irrazionale dello sentimento religioso su mercantilizzazione economica e su instrumentalizzazione politica ecco quindi che siamo in un altro tipo di autoritratto ve ne presento vari per avere un panorama un panorama di contemporaneità un artista che tanti di voi forse conoscono perché poi vincitrice di alcune manifestazioni torinesi Valeria Secchi molto disponibile che è stata anche lei da me intervistata da poco e che ci dice ci racconta i suoi lavori e i suoi autoritratti infatti lavora molto con gli autoritratti ne vediamo alcuni condivisi ma vorrei andare direttamente nella parte in cui ci parla proprio non solamente dell'autoritratto ma anche della relazione alla domanda che gli è stata fatta che relazione trovi tra il sacro la spiritualità la mistica e l'arte lei ci dice che intanto appunto l'autoritratto mostra diverse parti di sé diverse parti degli archetipi del sé e ci dice proprio citando sul rapporto fede spiritualità ci racconta ci racconta un episodio invece di eludere ad altri fatti e dice frequentavo spesso la casa di mia nonna prima di arrivare al salone dove eravamo soliti riunirci passavo di fronte ad una stanza quella della preghiera arredata di soli santini statuette ceri e icone mia nonna faceva il rosario in quella stanza ne regalò uno anche a me rosa pregava la madonna guardandola in un dipinto la madonna era bellissima quando iniziai il catechismo ci dissero dell'angelo custose non presi bene il fatto che qualcuno mi vedesse senza essere visto iniziai a sentire Dio e i suoi angeli come presenze invadenti dalle quali cercavo di nascondermi con varie scamotage molti anni dopo incontrai Dio all'università nei testi di Heidegger Spinosa Descartes Agostino e Derrida lo vidi più chiaramente nel cinema di Bergman mi capita spesso di sognare la chiesa nella mia città natale mi appare vuota con delle volte molto alte come a sottolinearmi una distanza incolmabile piango sempre di fronte al Cristo in croce volutamente deforme il volto e lo stereotipo della tristezza ma c'è un taglio sul costato che mi fa brividire provo dolore ricordo che sul quaderno delle scuole elementare feci un disegno del Cristo in croce lo sfondo era nero in quel disegno vedo l'inizio del mio debito il mio lavoro prende molto da queste esperienze in molte delle mie immagini leggo una verticalità un soggetto schiacciato un meccanismo di imposizione invadenza per riprendere il termine usato prima la Madonna dei like è apparentemente più confortevole ma sostanzialmente più amare della Madonna che vedevo a casa di mia nonna so che molti trovano la mia Madonna sono un'immagine divertente ma per me non lo è non c'è misericordia nella Madonna dorata in cambio di un like vorrei invitarvi oltre all'immagine preponderante a porre un occhio anche nell'immagine invece a tre teste perché farei un salto visto il tempo e andrei ad accennare un paio di altri artisti per poi concludere qua abbiamo Yasuma Samorimura che appunto è anche stato intervistato in più occasioni che lavora quasi esclusivamente sull'autoritratto come evento performativo da cui poi scaturisce la fotografia dobbiamo ricordare ok scusate ci dice appunto per accennare alle narrazioni di Yasuma Samorimura il quale ci dice se il quadro contenesse uno specchio allora io vedrei me stesso nello specchio e se quindi la pittura è uno specchio ma al tempo stesso sto contenendo il protagonista in questo caso Dürer allora significa che io sono il Dürer inoltre se io sono me stesso l'immagine mostrata nella pittura specchio è me per farla semplice io sento Dürer in me stesso e me stesso in Dürer questa relazione costruita in me guardando il suo autoritratto questa è la struttura basica dei miei autoritratti ecco credo che in queste poche parole emerga il suo fare autoritratto emerga questa relazione non solamente con l'alterità ma con quella che possiamo identificare come un campo mistico una cosmogonia mistica e tramite questo studio possiamo in qualche modo dovremmo andare ancora più a fondo ma possiamo in qualche modo cercare di colmare alcune lacune già sollevate e chiarite da Maria Giulia Dondero anche qui presente con noi riguardanti proprio la relazione tra il sacro e la fotografia infatti Dondero ci dice dobbiamo ricordare che la letteratura mistica religiosa filosofica e sociologica ha stabilizzato la descrizione della dimensione sacra come afferente a un'esperienza indicibile indescrivibile a un avvenimento inesprimibile e intrattabile quindi studiare la dimensione sacra in quanto processo narrativo come testualizzazione e discorsivizzazione della trascendenza e ancora continuando con la citazione si è indagata la testualizzazione pittorica e letteraria dell'esperienza trascendente ma così non è stato della relazione tra fotografia e discorso sacro se l'esperienza del sacro è sempre stata considerata legata un attimo di massima intensità esperienziale intrattabile e indicibile anche una certa letteratura sulla fotografia ha voluto legare all'immagine fotografica la capacità intrinseca di rilevare all'osservatore una verità definita insviluppabile e chiudiamo con la citazione nelle fotografie di Morimura vediamo come la performance trasformativa diventata testo e l'assunzione dell'alterità come paradigma imbricante per la soluzione del sé risulta un'apertura di coscienza al mistico essere seppur la semiotica non si fondi come invece fa l'ontologia sui caratteri vivenziali dello stare nel mondo risulta però notevole per la semiotica riflettere sui dispositivi sulle strategie sulle norme che tale stare sottende il coinvolgimento dell'alterità nel sé e l'apertura dialogante e quindi concludiamo con un accenno ancora a questi artisti che compiono un'azione politico performativa di rilevanza si chiamano Janet Jans di rilevanza ho scelto questo autoritatto in cui appunto in qualche modo la dissoluzione del sé è evidente non solo per la tripartizione non leggo più insomma solamente accenno ma per evidenziare come un'azione artistica di questo tipo ovviamente sottenda aspetti eventualmente mistici e spirituali proprio nell'autoconcezione del sé o dissoluzione del sé perché appunto questi tre artisti di origine uno sloveno uno italiano e uno croata decidono un'azione lunghissima durata anni di cambiare il proprio nome e si chiameranno poi tutte e tre Janet Jans come vedremo dall'ultima foto e faranno poi con questa foto questa immagine sul monte Triglav che è il monte più alto della Slovenia proprio per assodare la chiusura di un processo molto articolato in cui il sé riassunto in qualche modo nel nome nel prender nome viene viene dissolto diciamo così ovviamente c'è anche l'aspetto della tripartizione che volendo possiamo posteriormente eventualmente approfondire alcuni accenni ancora e così condivido anche con un po' di vergogna ma anche con molto piacere ma alcuni testi questo esempio è una serie di autoritratti svolti nel 2015 poi assemblati poi dissolti in cui c'è una camera fissa c'è una diacronia nello svolgimento c'è una topologia a sé stante e ovviamente interviene invece la dinamica del passaggio del tempo poi cosificate interessava poi attribuire a ciò che la macchinaria può fare dell'oggetto in sé ricordando poi che appunto questo oggetto fotografico ha una sua performatività nel momento in cui è stato fatto e poi un'eventuale cosificazione nel momento in cui viene trattato in modo diverso accenno anche forse qua ci sono studenti e studentesse che hanno fatto qualche mio corso aspetti dell'autoritratto quindi in qualche modo dell'autoscrizione che lavora anche molto durante i corsi quindi il come noi stessi possiamo concepirci in questa scrittura in questa testualizzazione vabbè poi appunto per evidenziare maggiormente questo powered by office intelligent service come poi si evolvono le immagini discorso che poi può essere affrontato in altri in altri contesti e mi piace molto chiamare continuo con questo neologismo vitacora quaccennato essere originalmente derivante dal bitacle che era questo questo diario di scrittura dei naviganti inizialmente un testo molto tecnico che aveva semplicemente appunto tutte le qualità del transizione marittima che invece poco per volta diventa si allarga e diventa poi una specie di diario di bordo vitacora invece più neologismo nonostante venga da bitacle e poi invece composto da vita vita e cora che può essere che rimandare sia al cora corason cora che è uno strumento musicale africano con una cassa di risonanza naturale ricettiva nonché simbolica ma anche cora che dal greco significa ricettacolo ricettacolo luogo o spazio in questo testo scritto qualche anno fa in cui si raggruppano degli scritti propri e che sono pratiche che invito sempre a fare proprio come pratiche intrinsecamente mistiche spirituali perché dialoganti con il sé un sé non solo egoico ma un sé di più ampio respiro chiuderei qui grazie mille per l'ascolto grazie Silvia grazie per aver condiviso con noi le tue riflessioni e anche le bellissime opere a questo punto il dibattito se c'è qualche domanda prego prendete pure la parola e Jenny non so se tu vuoi che alziamo la mano come no no prego prego allora io vi ringrazio tutte e due comincio io perché poi vi devo lasciare fra due minuti allora Jenny volevo chiedere una cosa hai parlato di intertestualità come relazione di Zen Body dall'inizio e volevo sapere come dato che poi il corpo ovviamente è molto presente in queste relazioni in tutte queste autobiografie intertestuali biografie autobiografie eccetera volevo sapere se hai rimarcato delle strategie enunciazionali particolari per parlare della corporalità per esempio non so mi riferisco alla questione del profumo mi riferisco alla questione dell'acqua alla relazione insomma tra l'acqua e il corpo un po' l'idea del corpo che è interstiziale nel caso dell'acqua e ci sono ancora altre configurazioni nel caso del profumo volevo appunto chiederti se hai studiato se ti interessa studiare proprio come il ritmo in un certo senso il ritmo enunciazionale di queste messe in scena rappresentazioni di corpi elementi come nel caso dell'acqua in questi test che hai studiato e poi volevo fare forse un commento per Silvia rispetto a quando Silvia hai citato fotografare il sacro ti ringrazio e io lì distinguevo un po' il sacro in fotografia come luogo in cui si mette in scena qualcosa appunto di 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 sviluppabile di non di non ostentabile di non sviluppabile di non narrativizzabile e e e poi giustamente in un certo senso criticavo tutti i casi di citazione intertestuale come nel caso di Dürer allora non ho ascoltato quello che hai detto su Dürer perché è entrata una persona a casa mia sai come è stata casa mia che è aperta eccetera vabbè comunque insomma volevo sapere se appunto secondo te questa questa queste queste citazioni inficiano in un certo senso perché sono sempre citazioni un po' kitsch non lo possiamo negare no il kitsch come 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 rimaneggiamento come miniaturizzazione esagerazione eccetera unificiano un po' questa quest'idea di di sacro come separatezza come come sviluppabile eccetera grazie entrambe grazie Maria Giulia Silvia se non ti dispiace comincio io ma sarò rapida effettivamente sono assolutamente d'accordo con te nel senso di dire che la parola disembodied crea molto problema nel nel caso specifico in realtà non è un termine mio ma l'ho riportato fra diciamo fra virgolette perché è una parola che usano l'offland e scodov nel loro articolo che classifica i tipi di conversione quindi loro dicono rispetto ad altre forme di conversione che implicano una interazione faccia a faccia o la frequentazione tra virgolette fisica di altri credenti ecco nel tipo della conversione intellettuale si può parlare di una forma un pochino più disembodied perché non c'è questa interazione fisica ma passa attraverso il libro o comunque dei testi che possono essere anche internet o televisivi poi nel caso di figure specialmente poi nel caso della mistica questa distinzione diventa decisamente problematica poi adesso mi sto occupando un pochino di letteratura mistica e qua è proprio interessante vedere come invece la dimensione corporea è chiamata in causa su tutti i piani e nel caso appunto della scrittura di Teresa Davila così come poi è interpretata da Julia Cristeva mi interessa proprio questo meccanismo della concretizzazione proprio fisica dell'esperienza ma mediante la scrittura in modo che appunto come riporta una delle citazioni che ho letto prima non c'è più una distinzione tra le parole e le cose quindi è una dimensione senz'altro interessante come dicevo ci sta ancora molto lavorando su questo però penso che insomma grazie per la domanda perché ha toccato proprio un nervo fondamentale insomma di tutto questo modo di questo non lo so lo definirei quasi un modo di non lo so un modo di pensare ma anche di vivere e di scrivere tutto correlato che sto cercando in qualche modo di buttare giù di insomma di fissare in qualche modo di puntellare ma che proprio per sua natura è proprio fluido come l'acqua e si perde in migliaia di rivoli in tanti testi e quindi è veramente una materia scivolosa che è difficile da fissare prego Silvia grazie io anche io continuerò ad approfondire sia il testo di Maria Giulia sia il tema che è molto appassionante a me interessava di Morimura come lui creasse cercasse di creare dialogo con l'alterità un'alterità precedente a lui al di là del genere al di là del soprattutto del genere infatti gioca molto sulla teatralizzazione sui travestimenti e quindi puntare l'attenzione su questo Durer che è in me stesso e io che sono Durer in questo caso ho condiviso l'esempio di Durer ce ne sono tantissimi altri però come lui poi visivamente fotograficamente creasse testo a partire però di una performatività che credo fosse nel suo caso però l'aspetto preponderante poi sfociato in un testo visivo che abbiamo uno dei quali abbiamo visto insieme ci sono altri interventi a Magda prego eccomi io per sicurezza non accendo il video perché la connessione è veramente poco stabile in questo ultimo periodo dunque grazie a Silvia per questo bellissimo intervento veramente illuminante interessante sulla fotografia sì sulla fotografia così recente sulle opere così recenti e invece sono due cose c'è un libro di Darcia Maraini che è Chiara da Figi che in qualche modo sembra un parallelo italiano di quello di Giulia anche se non è un parallelo proprio al 100% perché l'autobiografismo è un po' meno evidente anche se c'è perché l'istanza che parla dal narratore chiamata scrittrice è introdotto un personaggio fittizio però l'indagine assomiglia l'indagine di Dacia Maraini che qualche anno fa ha pubblicato questo libro su Chiara da Figi assomiglia un pochettino all'indagine di Giulia Sisteva e poi secondo luogo in un frammento che hai mostrato mi colpiva moltissimo il fatto che Giulia Sisteva quando si appunto ad un certo punto si rivolge a Teresa e si rivolge a lei come se fosse la destinataria di una preghiera quindi in particolare cita e trasforma la litania alla Madonna e e quindi diciamo ci sono vari testi che parlano in quel particolare scritto e tra questi c'è anche la preghiera che viene trasformata in maniera molto interessante adesso non si può più vedere il tuo powerpoint ma è proprio un'educazione Teresa virgola donna non mi ricordo quello che sei Ave Teresa esatto Ave Teresa è proprio calcato sulla litania tra l'altro anche su una forma piuttosto antica della litania che non si usa più quindi non è così immediatamente nota forse a un destinatario di oggi ma c'è questa preghiera molto forte questa invocazione niente spero di aver detto quello che mi sono affrontata grazie 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 per questi utili riferimenti qualche altro intervento come se mi si oh ciao vittoria ciao scusa non posso attivare il video perché ho alcuni problemi di connessione quindi se non c'è nessun problema posso parlare così si si figurati certo ok perfetto volevo ringraziare davvero entrambi perché sono state delle presentazioni molto ricche molto belle quindi grazie e quindi io volevo non è una domanda è più per sapere la tua opinione su questo quando parlavi giustamente di questa esperienza che Cristeva e sperimentava un po' no attraverso la lettura quindi non possiamo anche dire che c'è o che magari si può sperimentare una sorta di embodiment quando utilizziamo il linguaggio per arrivare a quell'altro punto che oltre il linguaggio quindi irreduttivi dal linguaggio ma lo facciamo attraverso il linguaggio stesso quindi arrivando a questo luogo comune non possiamo dire che tu puoi avvitare anche all'altra persona fare come incarnare l'altra persona attraverso il proprio linguaggio è un po' una curiosità che avevo una cosa che ho iniziato a pensare ascoltando la tua presentazione volevo giustamente sapere la tua opinione considerando giustamente che Cristeva anche parla molto del potere del linguaggio non soltanto come un'erramenta comunicativa e niente sì ti ringrazio molto questo aspetto è presentissimo nell'opera di Cristeva proprio in Teresa Monamur voglio dire c'è proprio un accento sulla funzione del linguaggio che non è come dici tu un puro strumento comunicativo poi fa anche tante riflessioni anche sull'impatto del castigliano il fatto di esprimersi in castigliano quale influenza abbia sull'opera di Teresa io l'ho già tirata proprio le lunghe quindi non ho toccato questo aspetto ma sicuramente è presente interessante anche la riflessione sull'embadiment io ti dico solo che leggendo quest'opera ma anche poi come dicevo prima si tratta di un modo di pensare che non è solo di Cristeva ma che si risconta proprio in una certa sensibilità culturale nel trovare espressioni del tipo ingoiare l'altro o appunto ci sono tanti studiosi sia e anche scrittori quindi scrittori che critici che parlano di vampirismo cioè di risucchiare l'altro quindi anche tu hai comunque toccato un aspetto molto importante e che ha a che fare anche con questo engagement con questo impegno con questo mettersi in gioco veramente in tutto il proprio sé nella conoscenza dell'altro anche se è una conoscenza mediata da un testo e se avviene a secoli di distanza come nel caso Teresa Giulia ecco perfetto grazie mille davvero molto interessante gente ci sono ancora altri interventi magari possiamo eventualmente raccoglierne ancora uno altrimenti direi che possiamo chiudere io ringrazio moltissimo Silvia e tutti coloro che insomma hanno hanno avuto la pazienza di assistere e di anche di partecipare attivamente grazie a voi grazie a te Jenny è stato molto bello trovarci qua e in questa occasione grazie grazie bellissimo a presto allora grazie a tutti a presto domani grazie domani grazie grazie a tutti